In verità i fiorentini sono conosciuti perché sono molto polemici, però questo è un altro discorso. Assolutamente non sarò polemico, ringrazio Fabio, ci lega un'amicizia ormai da qualche anno, da quando ci siamo conosciuti proprio per il mio servizio in CEI, prima come referente per la conferenza episcopale toscana e da un anno invece come collaboratore stabile dell'ufficio in quanto abbiamo la direzione ad interim e quindi sostanzialmente ci vuole uno che lavora poi alla fine. Sono contento di essere potuto venire io perché mancava il direttore ad interim fuori per un altro impegno, sono contento perché mi interessa molto lo sguardo che Fabio ha voluto dare a questo vostro convegno, momento di formazione. Parto proprio da un concetto che Fabio già ha preannunciato. Sono scappato dalla ragioneria il primo anno e quindi i numeri non sono proprio il mio, come dire, fatto il cuore nella mia vita, fatto alberghiera. Però non so come mai tutte le volte che penso a qualcosa parto sempre dai numeri, non so perché. Ci sono dei dati statistici soprattutto che ci possano aiutare a prendere il là e dare corpo a quello che Fabio già ci ha annunciato. Secondo l'Istat nel 2022, al di là di tutti quegli articoli che troviamo sui giornali e che anche ultimamente fanno proprio titoli da scoop con fotografie inquietanti, chiese stravuote con scritto le chiese sono vuote. Ora, io sono un parroco di una parrocchia di 10.000 abitanti. La mia chiesa l'ho vista vuota giusto quei due mesi durante il covid, ma anche all'epoca non era vuota perché comunque la gente a pregare ci veniva ugualmente. È vero però, e questi sono i dati Istat, che nel 2022 abbiamo toccato il minimo storico della percentuale delle persone che vanno normalmente in chiesa, cioè che hanno un rapporto con la chiesa, probabilmente attraverso la parrocchia, di almeno una volta alla settimana, perché siamo arrivati al 18, meno del 19%, al 18,8%. Restano certamente invece molto più praticati, fino almeno al 31%, funerali e matrimoni. Ma tutti noi che magari partecipiamo normalmente alle attività di liturgiche, catechetiche e delle parrocchie, sappiamo bene che il popolo dei funerali e dei matrimoni non è propriamente un popolo che si può dire fedele. È un popolo difficile. Secondo me un bellissimo luogo di evangelizzazione, celebrati uno prima di venire via di funerali, dove chi rispondeva era il mio sacrestano. E questa gente che io non conoscevo perché non erano parrocchiani miei, come dire, da una parte te la puoi sbrigare prima possibile per finire il tuo servizio, oppure ci puoi mettere dentro quello che manca e che è il sale del Vangelo, il sale della evangelizzazione. Di fronte a un 50% degli italiani che ormai entrano in un luogo di culto in modo discontinuo, quindi per Natale e per Pasqua, di fronte a un fatto epocale che dopo il Covid si è in qualche modo realmente esploso, se raffrontiamo gli ultimi 20 anni della vita della società italiana, siamo passati da il 36% dei praticanti domenicali al 19%. Quindi abbiamo praticamente diminuito almeno della metà e sono raddoppiati praticamente quelli che non praticano mai. E il, diciamo, tra il 36 e il 19% di oggi c'è 17 punti e il raddoppio dal 16 al 31 ce ne sono altri 16. Guarda caso i dati che Fabio con ospitalità religiosa ha pubblicato qualche mese fa e che hanno fatto in qualche modo anche un po' di, hanno dato voce e hanno dato visibilità anche a tutto il servizio il lavoro che voi fate, ci dice che nel 2023 c'è stato il più 16% delle richieste. Allora, le chiese si svuotano del 16% e la richiesta d'ospitalità religiosa aumenta del 16%. Mi viene da dire che possiamo, senza entrare in una disamina dei numeri, delle specificità, ovviamente anche delle richieste che sono fatte nelle domande che poi producono gli indici Istat e quelli di ospitalità religiosa, senza entrare perfettamente dentro, potremmo dire che chiaramente lo spazio turistico in generale è diventato uno spazio, per quello che riguarda l'ospitalità religiosa, uno spazio realmente di una grande possibilità di evangelizzazione. E quindi un luogo dove, attraverso l'ospitalità, quindi attraverso il proprio delle case per ferie, attraverso l'ospitalità poter davvero portare il Vangelo e non solo utilizzare l'ospitalità come obiettivo per sostenere le attività di evangelizzazione, perché spesso è stato fatto così nel passato. Abbiamo la casa per ferie che ci permette di mantenere delle altre strutture che fanno evangelizzazione, ma quasi mai si è inteso avere la casa per ferie come strumento di evangelizzazione. Il mio arcivescovo, il Cardinal Bethori, è a scadenza ma ancora è il nostro vescovo di Firenze, già segretario generale della CEI nel 2005, presenzando a un convegno sulle case per ferie, concludeva il suo saluto dicendo, auspico che le case per ferie si sentano parte attiva nell'impegno di evangelizzazione 2005, sappiano garantire un'accoglienza degna del Vangelo, soprattutto per i poveri e per i ricercatori di verità, ben sapendo che l'ospitalità cristiana è uno dei modi più eloquenti con cui rendere concretamente visibile il cristianesimo e la chiesa. Nella mia vita, nella mia esperienza religiosa, sono stato circa dieci volte in Terra Santa, in pellegrinaggio, ma mai come il primo lo ricorderò nella mia vita. Il primo pellegrinaggio in Terra Santa da seminarista perché un luogo di ospitalità fu veramente, come dire, un punto di riferimento per il mio ritornare poi nove volte di fila in Terra Santa. Che cosa successe? Successe che l'ospitalità fu fatta dalle famiglie, dalle famiglie cristiane di Betlemme. E abitare con loro, stare con loro, fare famiglia, casa con loro, fu un'esperienza totalmente diversa da tutte le altre che poi ho fatto e che comunque sono importanti. Allora davvero lo stare insieme rende eloquente quella fede di chi accoglie e di chi è accolto. dando via a questo seminario di formazione, credo allora che non soltanto per il mio essere qui a nome dell'ufficio della CEI, della pastorale del Tempo Uribolo Turismo e Sport, ma anche per riprendere il discorso del mio arcivescovo, credo che sia molto importante riconoscere che in questi ultimi venti anni, dal 2005 al 2024, con una pandemia di mezzo che ha segnato certamente un limite, credo che possiamo dire che di acqua ne è passata e che di passi ne sono stati fatti. Tanti passi, tanta apertura verso il mondo dell'evangelizzazione anche da parte delle case per ferie, ma certo forse mai abbastanza. Spero che oggi, allora, in questi tre giorni, possiamo riscoprire davvero l'ospitalità come occasione. Un'occasione di incontrare l'altro, quindi, per un cristiano, ovvia occasione di evangelizzazione. Spero che, finalmente, il termine ospite, anche dai nostri lavori e da questa formazione che faremo, ritrovi tutta la sua pregnanza e anche la sua ambivalenza, per cui ospite è colui che ospita è colui che è ospitato. L'ospite è l'accoglienza dell'ospite e l'accoglienza dello straniero, di quello che è diverso. Interessante anche questo. Certamente, in questi anni, è maturata nella Chiesa la coscienza che, proprio come Chiesa, abbiamo bisogno di un turismo che abbia una proposta specifica a livello pastorale, di una pastorale del turismo che sia finalmente sostenuta da una pregnanza vera e propria, anche teologica, anche di studi teologici che le diano forza. Una coscienza che nasce dalla consapevolezza che non c'è solo il turismo religioso, di cui già è abbastanza difficile parlare. Voi sapete che a livello civile, turismo religioso, se io vado a parlare con un'amministrazione regionale, provinciale, della città metropolitana, di quello che volete, quando si parla di turismo religioso, ah, lei si occupa dei cammini. Perché il turismo religioso è quello. Quindi noi non abbiamo in testa, nella nostra pastorale, non abbiamo davanti un turismo religioso, cioè determinato dalla meta. Perché il turismo religioso è ciò che è determinato dalla meta. Io vado ad Assisi e quindi faccio turismo religioso. Beh, sì, ma potrebbe anche non essere. Io vado a fare il cammino di Santiago. È turismo religioso? Beh, sì, potrebbe, ma anche potrebbe non essere. Allora di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di ricomprendere il nostro ruolo all'interno del turismo e abbiamo trovato, abbiamo scovato, in qualche modo in questi anni di lavoro, Fabio ne ha fatto parte anche per la parte dell'ospitalità, abbiamo trovato forse l'ambito nel quale ci possiamo sentire davvero a casa e in cui di casa è l'evangelizzazione, cioè il turismo conviviale. È il turismo dell'incontro. È il turismo in cui l'ospite è davvero se stesso, sia come colui che accoglie, sia come colui che è accolto. Il turismo conviviale è la reale possibilità dell'incontro tra una comunità e l'ospite, tra il turista, il viaggiatore, il pellegrino, chiamiamolo come volete, l'ospite, e colui che lo ospita. E tradizionalmente nel turismo religioso questo non è detto che avvenga, perché se nel turismo religioso importante è la meta, permettetemi, la casa di perferie è un mezzo, è un luogo che mi serve per andare a una meta. Nel turismo conviviale questo cambia. Per vivere a pieno la proposta di pastorale del turismo allora oggi abbiamo bisogno di cambiare, di capovolgere la nostra visione, quasi come se fosse una vera e propria rivoluzione copernicana, perché questa rivoluzione non avviene nell'ospite che mi incontra nella mia casa per ferie, nella mia basilica, nella mia chiesa, nel mio museo, nel mio fare la guida turistica, ma cambia in me che mi propongo, cambia in me che accolgo. E oggi io parlo a persone che sono artigiani d'accoglienza. Questa parola artigiano tornerà fuori diverse volte forse nel mio parlare, ma è importante. Noi siamo artigiani, cioè ci mettiamo noi stessi ad accogliere. Non possiamo fare l'accoglienza, non so se qualcuno ce l'ha, non vorrei ora fare un po' di ferie, ma tutto è benvenuto, tutto è benvenuto. Io sono un tipo, in seminario mi chiamavano, no, il soprannomo non ve lo posso dire, insomma, mi piace molto la tecnologia, ok? Ma non posso pensare che la via dell'app per aprirmi la stanza, la casa, il luogo dove abiterò, oppure la chiesina che è sempre chiusa, che l'app sia la risposta. L'app è la risposta a un bisogno tecnico, ma non a un bisogno esistenziale, perché l'ospite è da accogliere. E lì si accoglie una persona, un bisogno, che magari si mostra per tante altre vie, si mostra per altri punti di partenza, che forse non coincidono nemmeno con la nostra esperienza, ma in quel momento ci saremmo noi là. Prima di tutto allora c'è una sfida da accogliere, che è una sfida veramente antropologica, prima che spirituale. Il turismo conviviale vuole realizzare un vero cambiamento, diventando, e questo lo riscopriremo anche nella parte economica, diventare un unico e grande laboratorio di dono, di reciprocità, di generosità, in cui l'ospite e la comunità ospitante, si fanno artigiani del buon modo di essere, del bel modo di essere, del bel e buon modo di vivere. Tutto questo necessariamente tocca, è una sfida anche per la sostenibilità, perché quando io dico deve diventare un laboratorio di dono, è chiaro che uno comincia a dire, beh sì ho capito, non si comincia a fare tutti l'ospitalità a donativo, come ci sono sui cammini, no? Bisogna anche poi chiudere i bilanci in pari, anzi, mi sarebbe chiudere un po' d'utile, se no qui non si va avanti, è ovvio. Ma quando io parlo di dono, parlo di un dono particolare, che anche l'economia diventa dono. Non so di cosa parlerà Padre Marco, non voglio spolerare cose che non conosco, ma la sfida della sostenibilità nel turismo conviviale è quella sfida che trasforma l'homo economicus in homo donator, cioè un uomo che nasce, vive, esiste per fare soldi, in cui il suo scopo è trasformare il creato per creare possibilità di guadagno personale, a volte fino ad arrivare a scapito del bene comune. Trasformare da questa visione di economia, un'economia in cui l'uomo è un uomo totalmente economico, a un uomo che è un uomo che dona. L'homo donator. Nella convivialità cambia questo paradigma economico e l'imprendorialità, che è basata sull'idea dell'homo donator, mira non solo a raggiungere il profitto, certo, ma prima di tutto a dare potere alle parti interessate, a tutte e due. Nella, e non sono un filologo, l'ho detto prima che sono fatta alberghiera, ma nella accezione più bella, più antica forse, del termine ospite, ospite inteso alla latina, cioè a quella della civiltà romana, non greca, ma romana, ospite, intesa alla latina, è mettere lo straniero al pari del cittadino. Ok? Cioè, io ti ospito e quindi non fa più differenza tra me e te, tanto che appunto poi ospite diventa il vocabolo per tutti e due. Quindi vuol dire che l'economia basata sul dono mette al pari l'ospite e l'ospitante. È questa la vera differenza. L'uomo donator allora diventa protagonista di una cultura della condivisione, espressione di una nuova visione di società che trova la sua massima attuazione in una imprenditorialità personalistica, dove cioè al centro dell'imprenditoria ci sta la persona. Ok? Non il guadagno. Perché o si stronca questa, questo serpente che si morde la coda, oppure in questa spirale ci rimaniamo tutti. Come abbiamo visto, continuamente continuiamo a rimanerci. Nella nota pastorale della CEI, il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, i vescovi italiani richiamavano all'attenzione che la comunità cristiana fosse sempre più una casa aperta, aperta alla speranza. E per questo veniva chiesto ospitalità. Un'ospitalità però che va oltre la mera accoglienza, il mero dare servizi di accoglienza. L'ospitalità vera consiste, dicono i vescovi italiani, nel saper fare spazio a chi è o si sente in qualche modo estraneo o addirittura straniero. Un tale spazio non si riduce a incontri le conversazioni. Va articolato e programmato in una forma di rete di relazioni, attivate da persone dedicate e idonee, che si formano, che sono sempre alla ricerca del buon modo di fare e di tenere e di vivere relazioni. Con un riferimento continuo, dicono i vescovi, con un riferimento all'ambiente domestico. Eh sì, proprio un tema importante. Fare casa, creare casa. Voi sapete che in ebraico casa e famiglia sono lo stesso termine? Vuol dire cioè che una casa per ferie si apre, apre la sua ospitalità, non soltanto ai propri ambienti, non soltanto alle proprie stanze, ma si apre completamente. Vuol dire aprire la propria vita, la propria esistenza e quindi anche ciò che nella propria esistenza è più importante, il tesoro della propria esistenza, la perla nascosta nella propria esistenza, che è il Vangelo. Se siamo di ispirazione cristiana è il Vangelo. Che cosa abbiamo di più importante? Se io apro me stesso, la mia esistenza, la cosa più ricca che porto dentro è Cristo, è il Vangelo. Quindi se io prendo l'ospitalità, accetto un'ospitalità di questo modo, vuol dire che mi apro completamente e dono ciò che di più ricco ho, e cioè il Vangelo. Un'icona per tutte, visto che siamo in tempo pasquale, un'icona per tutte, credo, possa essere quella dei discepoli di Emmaus. Non ho voluto fare il prete solito che parte dal Vangelo, ci arrivo in fondo, perché insomma è anche giusto che poi si arriva il Vangelo. Non vi rileggerò il brano del Vangelo di Luca 24, lo sapete trovare anche da voi sicuramente. Però vorrei ricordarvi come, in questa icona, che vorremmo prendere come spazio di ospitalità, dove l'ospitalità si fa già per strada, cioè dove l'ospitalità si fa vicinanza, l'ospitalità si fa a cammino, si fa prendendosi cura. La convivialità che nasce dall'incontro dei discepoli di Emmaus ha bisogno di mettersi in cammino con chi è triste, con chi è sfiduciato, con chi arriva a proda, ci è vicino, ci è prossimo, con qualunque dispiacere nel cuore, con qualunque disponibilità del cuore. Farsi vicino come Gesù si fa vicino ai due discepoli che se ne vanno tristi, che se ne tornano a casa sconfitti. E facendosi vicino a loro parla. E con la parola scalda il cuore. Quindi ospitalità vuol dire farsi vicino, entrare in relazione con l'altro, con una parola, che è la parola di Dio, che scalda il cuore, che aiuta a spostare, a sbilanciare lo stato d'animo dell'uomo e che gli dona speranza. Una speranza che all'inizio non è compresa, è compressa, compressa nell'uomo. Ma che c'è? Perché dentro tutti noi ci sta la speranza. In tutti noi, in nuce c'è, compressa da quello che volete, fino a essere compressa dal peccato, ci sta la speranza. E questa speranza può essere tirata fuori, può essere rimessa, riscoperta, proprio attraverso un'accoglienza, un'ospitalità, che si fa accompagnamento, che si fa scaldare il cuore, per arrivare al luogo stesso dell'incontro con Gesù, che è lo spezzare il pane. I due discepoli di Emmaus che stanno sentendo il cuore più caldo, anche se ancora non l'hanno compreso, lo comprenderanno dopo, chiedono a quel pellegrino resta con noi. Resta con noi. Sarebbe davvero bello che nella nostra ospitalità il nostro modo di ospitare fosse ripagato dall'ospite con rimani un po' più con me. E questo avviene se scaldiamo il cuore con le parole del Signore, se mettiamo Lui al primo posto, fino ad arrivare al gesto della convivialità stessa, che è lo spezzare il pane. Che non è soltanto l'eucaristia. Lo spezzare il pane inteso come eucaristia è ovviamente simbolico. Gesù spezza il pane e loro lo riconobbero. E Gesù sparì davanti a loro e rimase il pane. E tutti quanti noi diciamo bene Gesù e l'eucaristia che rimane ospite, pellegrino, disponibile per tutti noi. Ma prima di essere un gesto simbolico, spezzare il pane è un gesto reale. È un gesto familiare. È un gesto quotidiano. Gesù non sceglie il pranzo di Pasqua e di Natale. Sceglie il pane. Cioè non sceglie una cosa strana, una cosa sofisticata. Per essere presente, sceglie il pane. È un pane spezzato. Un pane condiviso. Un pane che è la memoria di Lui che si spezza per noi. In questo, in questa convivialità intesa come spezzare il pane insieme, troviamo lo spazio dell'evangelizzazione che a quel punto verrà naturale. Allora, se vorremmo riconsiderare la nostra disponibilità al servizio, legato spesso a un carisma religioso, vedo tante suore, se vorremmo provare a ridare senso al nostro fare, perché a volte siamo schiacciati dal nostro fare, facciamo un sacco, ci viene chiesto sempre di più, siamo sempre meno, ci viene chiesto sempre di più e ci sentiamo schiacciare dal fare, tanto che a volte ci chiediamo anche ma perché lo faccio? Fino a che uno non arriva anche a dire per chi lo faccio. Ecco, dobbiamo riscoprire se abbiamo il coraggio di ripartire da là, da dove tutto è iniziato, cioè dall'incontro col risorto. È solo Gesù risorto che svela la nostra dimensione più profondamente autentica, come ai due discepoli di Emmaus. Gesù risorto si è fatto loro vicino, ha spezzato il pane per loro e ha fatto riscoprire loro la capacità di ritornare a Gerusalemme, di riprendere la strada. Era sera, era tardi, non si cammina di notte, ma questi hanno volato per tornare a Gerusalemme, perché hanno incontrato il risorto. Così Gesù risorto dà una capacità davvero generativa, fruttuosa. Insomma, riporre fiducia nella proposta dell'ospitalità ecclesiale significa proprio prendere coscienza della nostra vocazione cristiana, di battezzati e di consacrati. Tutti chiamati insieme a camminare in mezzo ai fratelli e alle sorelle che magari nella loro vita non hanno mai incrociato una Chiesa accogliente. Ce ne sono tanti che non hanno mai incrociato la Chiesa accogliente. quella Chiesa che Papa Francesco si sforza sempre di invitare ad essere. Non molti l'hanno trovata, anche oggi, dopo che Papa Francesco già ce lo dice da diversi anni. Chissà che non possiate essere voi con le vostre case per fere a rendere possibile per qualcuno l'incontro con il risorto. Grazie. Grazie.